Quindi sicuramente stiamo parlando qui in Italia di un sistema malatto che vede il contribuente come se fosse un bancomat. Di conseguenza, proprio perché non si è organizzati anche dal punto di vista amministrativo, piuttosto che dal punto di vista proprio burocratico, non si fa altro che aumentare le tasse, aumentare il disagio per l'imprenditore che ovviamente nel 2023 si guarda intorno e cerca dei professionisti che parlano la sua stessa lingua. Oggi come oggi è impossibile che un commercialista e un avvocato classico possa comprendere le esigenze fattuali di un imprenditore.